Il giorno che abbiamo tanto temuto è arrivato. L'oscurità è qui. Dobbiamo effettuare una ricognizione su io. C'è una piramide. Rasputin è già stato disattivato. Monterei sull'esperienza di Aerys, ma non siamo riusciti a contattarla. Sappiamo entrambi che significa. Aerys è il modo migliore per sapere cosa stiamo per affrontare. Ho bisogno di lei alla torre. È una risorsa troppo preziosa. Trovala, guardiano. Portala a casa. Tranquillo. Aiuto. Aerys Morn. Una guardiana senza uno spettro. Chissà cosa si trova. Vuota. Vuota. Innaturale. Quando guardo la nave. Aerys, riesci a sentirci? Aerys? Nulla. Certo che è inquietante sto triangolo qua. Capitale. Stanno cancellando i miei segnali. Non riesco nemmeno a chiamare una storia. E cosa vedi? La piramide. È opprimente. Come l'incombere della tempesta. Allora fai fretta e tiratene fuori. Ricevuto. Vediamo. No. No. Non... Avete armi con voi. Non vi serviranno. Noi offriamo solo verità. Avremo. Qualcosa ci ha strappati dal raggio. Cosa sta succedendo? Che bustone ho questo? Oddio mio. Che volo. Oh porca troia. Delicato. Come una pimetta. Siamo di nuovo su io. Vicino alla culla. Ora sto... Ricevendo deboli segnali da Aerys. Non fermiamoci. Vado, vado. L'area qui è densa di strane comunicazioni. Non so se posso... Sei tu guardiana. La torre ha bisogno di te. Ci manda Zavala. Ovviamente ti manda. Mi dirigo verso la punta. Mi chiama. Cosa ti chiama? L'alpeare in preda alla frenesia. Zavala. L'hai sentito? Ah, Zavala non c'ha... Non riesco a triangolarne l'origine. Prosegue. Forse il segnale migliora più avanti. Che di io devo fare queste cose qua? Quindi... Mi metto a farle. Alien gramma Ambrosi. Il mio martello non funziona. Il mio martello non funziona. E là... Che di io! Grazie a tutti. 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 Questo coso è figo, porca puttana. Ah, e dove arriva il coso? Lì la piramide, merda. Eccolo. No, dove cassa va? Puttana eva. Meno non mi rompono i coglia... Porca troia. Cosa ci trattiene? La corte di Sabatun. Merda. Non è un bel posto questo. Guarda lì che merda. Guarda... Sì, vabbè. Guarda, sono tanti occhi. Dov'è? No, è realtà pochi. Ma però ce ne sono, eh. Marca la vacca. Marca la vacca. Non. c'è l'ancora ora no E' scritto in mono Non posso fargli un cazzo Ah no Potevo distruggerlo Ora basta Oh ciao Eris No, non è nulla Ma questo Questo è qualcosa Un albero dalle ali d'argento E' cresciuto sull'ultimo luogo toccato dal viaggiatore prima che partisse L'oscurità è stata attratta qui Come l'alveare è attratto dall'oscurità Questi miei occhi Le cose che hanno visto Cosa è stato Qualcosa che non ci vuole qui L'oscurità Eh, Savaton più che altro Ma appartiene all'oscurità Dovrai essere tu Questa volta Una scena Un'animazione che prendeva Che lo prendeva Ripeto, rispondete Ti sentiamo Zavala L'hai trovata Il seme attraversa le interferenze Eris Zavala Rapporto alla torre tutti e due Nostra trasmissione potrebbe essere compromessa Non facciamolo aspettare, guardiano Da sono io, Eris Zottica Che cosa hai scoperto? Che mi ha trovata L'oscurità mi contatta Ma qualcosa interferisce I suoi messaggi sono, come dire Alterati Dalla megera sorella di Oryx Re dei corrotti Ah, c'è una sorella Oryx pure La tua ossessione le dà potere No Lei si nutre di negazione Ignoranza Il guardiano ha scoperto un mezzo Per poterla eludere Un semi delle ali d'argento Eris Se l'oscurità ci contatta Noi dobbiamo rispondere Non darò il mio benestare Non c'è tempo per le approvazioni Si trova qui Farò il ritorno su io Se non possiamo definire l'intento dell'oscurità Ben presto ci ritroveremo sull'orlo di un nuovo crollo Forse è questo Quello che vuole Sala Ti prego, non farlo Lasciami andare, Zavala Sì? Stavamo dicendo Secondo le analisi spettrali La piramide La sua propulsione L'energia di cui si serve su Io Non si tratta di una nave Ma di un'entità Paracausale Come il viaggiatore I registri dell'età dell'oro Lo confermano Il primo giorno L'oscurità riempì i cieli Il secondo Il viaggiatore cadde Aiuta Eris come puoi Ma preparati ad affrontare La flotta nemica Quando arriverà Abbiamo bisogno di te Però non ho fatto altre missioni Quindi questa parte qua La potrei tagliare E mettere da una parte Per quando farò La cosa di Eris Beh, vedi, vedi, vedi Grazie 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 Grazie